Ha un saldo negativo di oltre 60.000 euro l'ente carnivalesca che proprio in questi giorni sta elaborando il suo bilancio. Nelle casse infatti mancano alcuni contributi promessi lo scorso anno dagli enti istituzionali e da alcune associazioni di categoria ma non ancora riscossi. Per chiudere questi debiti sarà necessario fare dei tagli e risparmiare dove possibile. Intanto l'amministrazione comunale ha riconfermato per il carnevale la stessa cifra delle passate edizioni. Ad annunciarlo il presidente dell'ente carnivalesca Luciano Cecchini che risponde anche alle dichiarazioni dei maestri carristi. Allora innanzitutto forse c'è qualche incomprensione, per carità noi ci assumiamo tutte le responsabilità, non saremo dei grandi geni nell'organizzare per carità di Dio. Però ci tengo a precisare che a noi l'amministrazione ci ha ribadito e ci ha confermato che con un grande sforzo garantiranno i 130.000 euro. Il progetto dei maestri carristi è favoloso, l'unica pecca che costa 150.000 euro e non riusciamo a finanziarlo. E' tutto qui il nodo che dobbiamo insieme sciogliere. Ma al di là di questo sogno che Pacassoni insiste che il carnevale si realizza anche come un sogno, però dobbiamo passare poi alla realtà. E con l'obiettivo di avviare i lavori Cecchini ha convocato per lunedì 19 ottobre alle ore 21 il consiglio di amministrazione della carnevalesca. Nel frattempo spiega la reale situazione dell'ente. Dobbiamo cercare di richiudere questi debiti come abbiamo pensato. Il 50% innanzitutto lo investiamo nel carnevale invernale di quest'anno, visto che poi si chiude il mio secondo triennio da presidente. Il sondaggio che tutti abbiamo decantato e che è piaciuto a tutti, però forse qualcuno non l'ha letto, la cosa più importante è che dice che l'8% conosce il carnevale di Fano, quindi c'è qualcosa che non va. E allora come carnevalesca già da alcuni mesi ci siamo presi l'impegno di finanziare di più la comunicazione a livello nazionale. E lì investiremo 25-30 mila euro. Quindi tolto questo vedete un po' che rimangono qui 70-75 mila euro che investiremo sul restyling di carri e sulle mascherate. Argomento trattato anche questa sera alle ore 18 durante un incontro programmatico in comune insieme ai carristi ai quali il presidente lancia un appello. Se volete bene al carnevale dateci una mano a fare una bella edizione 2016 facendo un passo indietro. Aspetto la vostra collaborazione da parte della carnevalesca, non vuole escludere nessuno. Sul bando invece pubblicato dal Ministero dei beni culturali che stanze a un milione di euro per le manifestazioni storiche, assicura che stanno lavorando sul progetto assieme all'ufficio cultura del comune di Fano. Ci arriverà qualcosa? 10-20-50-100-500? Più ne arriva meglio è. Andranno tutti investiti, come ho già detto e come mi è stato confermato, sia dal sindaco che dal vice sindaco, andranno investiti nel carnevale estivo 2016. Che quest'anno si farà, che questo è garantito. E lì investiremo sia questi soldi del Ministero, sia perché no. In Regione si sta parlando anche di rivedere il contributo al carnevale di Fano. Ben vengano cifre superiori. Ma onestamente, oggi come oggi, come carnevalesca e come responsabile del CDA della carnevalesca, non me la sento di fare ulteriori debiti.